Una preparazione cominciata presto, delle amichevoli di lusso con la Salernitana, col Bari, la Folgore e il Delfino Curi Pescara è pronta per la nuova stagione. Se siamo pronti lo dirà il campo, per cui sicuramente stiamo facendo un bel percorso. I ragazzi si stanno impegnando tanto, la società ha messo anche delle risorse importanti nel precampionato perché abbiamo individuato subito in questa stagione una stagione di livello più alto dell'anno passato. Quindi bisogna prepararsi bene, bisogna farlo con entusiasmo, con la professionalità giusta per la categoria e con tanta voglia di stare insieme. Lo scorso anno avete fatto veramente bene, 50 punti e poi avete valorizzato i giovani, avete anche ricevuto un premio per questo. Il prossimo anno si svolgerà sulla stessa falsa riga dello scorso? Per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani sicuramente sì, perché la squadra ha perso 3-4 ragazzi giovani, ma nel contesto della squadra i meno giovani, li ha sostituiti con dei ragazzi ancora più giovani, quindi secondo me abbasseremo ancora l'età media di almeno un anno abbondante. Per quanto riguarda l'andare bene, ce lo auguriamo tutti, ovviamente l'andare bene è sempre in relazione al livello del campionato, per cui noi pensiamo al nostro massimo e poi vediamo il nostro massimo dove si colloca all'interno della nuova stagione. E sul prossimo campionato di eccellenza quali sono le squadre che temete di più? No, vabbè, noi non temiamo nessuno, anche perché uno non dobbiamo vincere nulla e due non si va in campo temendo le squadre. Le squadre più attrezzate, ne sappiamo quali sono, sono Teramo e Giulianova in primis, però ci sono tantissime squadre, a differenza dell'anno scorso, che sono molto vicine a queste realtà. Non le cito perché sarebbero tante e ne dimenticherei qualcuno. Faccio fatica invece in questo momento a capire se ci sono delle squadre un po' più attardate, che è una cosa che negli anni passati è sempre accaduta e quest'anno non mi sembra, visti anche gli ultimi accadimenti positivi del Castelnuovo, del San Buceto, della Santigitiese, del Fossacesia, che qualche giorno fa magari erano ancora un po' indietro e non mi pare assolutamente che rimarranno indietro alla partenza della stagione. Grazie a tutti.